La recinzione del cantiere della centralina che un privato vorrebbe costruire sul Brenta a poca distanza dal Ponte Vecchio è ben salda al suo posto. A essere movimentata è invece la guerra di perizie e contro perizie sul progetto. Secondo quanto emerge dalla corrispondenza tra Ufficio Legale del Comune e Comune stesso, recuperata dalle opposizioni tramite accesso agli atti, le osservazioni del privato rispetto alle perizie dei tecnici incaricati dal municipio sarebbero arrivate in data 15 febbraio, quando invece fa notare lo stesso Ufficio Legale che rappresenta il Comune, le perizie comunali sarebbero state depositate in tribunale solamente tre giorni dopo, il 19 febbraio. Forse è utile che il sindaco Elena Pavan si attivi per verificare se ci sia stata una fuga di notizie. La curiosa circostanza non è sfuggita alle forze politiche cittadine, tanto che le opposizioni l'hanno portata all'attenzione dell'Assemblea Bassanese nel corso del Consiglio Comunale tenutosi dopo il lungo letargo dell'aula da dicembre a inizio marzo. Tant'è, forse le minoranze dovranno mettersi in coda perché anche i cittadini di Bassano aspettano da settimane che il sindaco Elena Pavan risponda alla nostra domanda sulla data in cui verrà rimossa la recinzione di via Pusterla.